Salve a tutti, la versione che oggi propongo alla vostra attenzione è tratta dalla congiura di Catilina di Sallustio, precisamente corrisponde ai paragrafi 1-7 del primo capitolo. Ho dato il titolo, solo la forza dell'ingegno dona all'uomo la vera gloria, perché questo è appunto il contenuto di questi primi paragrafi dell'opera sallustiana. Sallustio intende dimostrare che dal momento che i beni materiali sono fragili e fugaci, l'uomo deve assicurarsi la gloria con l'ingegno, perché soltanto esso ci distingue dagli animali e ci avvicina agli dèi. Sallustio dunque apre la sua opera storiografica con un ampio proemio in cui giustifica la sua decisione di dedicarsi alla ricerca storica, abbandonando la carriera politica e le passioni di parte. Presenta dunque il suo programma di scrittore, il proemio è sempre un momento molto importante dell'opera. Sallustio in questo proemio discute di temi di carattere morale, in apparenza lontani dalla natura vera dell'opera storica, però attraverso tutta una serie di incisive antitesi, Sallustio vuole portare alla luce le contraddizioni che sono insite nella natura umana. La natura umana infatti coniuga l'elemento divino a quello bestiale e così, rifacendosi alla tradizione in particolar modo platonica, Sallustio vuole sottolineare la superiorità dello spirito, perché soltanto lo spirito può conseguire una gloria duratura che non potrà mai essere data dai beni materiali. Sentiamo dunque le parole di Sallustio. Il brano, corrispondente quindi ai paragrafi 1-7, comincia con omnis homines e termina con ita utrunque per sé indigens alterum alterius e auxilio eget. Ma vediamo nel dettaglio le singole parti. Prima parte, omnis homines. Qui sese student prestare ceteris animalibus, summa ope niti decet, nevitam silenzio transeat, veluti pecora, que natura prona atque ventri obbedenzia, fingsit. Vediamo ora i verbi. Riconosciamo student, indicativo presente terza persona plurale, l'infinito prestare, ancora un altro infinito niti, l'infinito di un verbo deponente, nitor niteris e nisu sum niti, decet è un verbo impersonale, transeat è il congiuntivo presente del verbo transeo composto di eo, obbedenzia è un participio presente, casi diretti del neutro plurale, e fingsit è il perfetto indicativo, terza persona singolare, di fingo. Ora, riconosciamo gli elementi strutturali, riconosciamo il pronome relativo qui, riconosciamo l'infinito niti, che naturalmente sostiene l'infinitiva retta da decet, riconosciamo anche la congiunzione ne, che vuole il congiuntivo transeat, riconosciamo un altro pronome relativo que, che ha come verbo fingsit. A questo punto possiamo destrutturare il testo, e ne emerge una struttura di questo tipo, omnis homines, dunque da qui fino ad animalibus, abbiamo una proposizione relativa. Abbiamo poi l'infinito niti, che dipende da decet, e niti avrà naturalmente come soggetto omnis homines, laddove omnis sta per omnes, ed è la forma arcaica dell'accusativo maschile plurale. Gli arcaismi sono molto diffusi nella lingua di Sallustio, sono il corrispettivo linguistico di un atteggiamento sempre volto nostalgicamente al passato, al passato idealizzato, al passato degli antichi mores, che contrastano con la decadenza dei costumi presenti. Quindi gli arcaismi sono il segno di uno stato d'animo dell'autore nei confronti del passato che egli vorrebbe recuperare. Abbiamo poi ancora un'altra proposizione introdotta na ne con il congiuntivo, infine un'altra relativa da que fino a fingsit. Quindi avvicinandoci alla traduzione possiamo anche segnalare decet come verbo della principale da cui possiamo cominciare a tradurre. Quindi occorre che... Andiamo poi alla infinitiva che è distaccata nei suoi elementi omnis, homines è il soggetto, quindi che tutti gli uomini, e il verbo è dato da niti, infinito, con summa ope, che vuol dire con sommo sforzo. Ma in mezzo, quindi appoggiato su omines, c'è il pronome relativo qui con la sua intera proposizione. Quindi occorre che tutti gli uomini, adesso abbiamo la pausa della relativa, qui student, che aspirano e dipende dalla relativa, l'infinito prestare, sese prestare il cui soggetto sono sempre gli uomini, quindi c'è l'analogia di soggetto che però il latino deve segnalare col pronome riflessivo, sese. Quindi tutti gli uomini che aspirano a prestare, ad eccellere, cetere, sanibalibus, sugli altri, ecco non traduciamo animali ma traduciamo esseri viventi. Finiamo la infinitiva come indica la freccia che collega questi due elementi, con sommo sforzo si impegnino, quindi summa, ope, niti. Poi da niti dipende il ne e che quindi non è una finale come ci è venuto sicuramente la tentazione di dire, è in realtà una completiva dipendente da un verbo incurandi come nitor che vuol dire mi sforzo, mi impegno. Quindi stiamo ben attenti a non sbilanciarci molto quando vediamo ut o ne più congiuntivo perché potrebbe essere una finale, certamente sì, ma potrebbe avere anche uno dei tanti altri valori che ut o ne hanno. Quindi bisogna che tutti gli uomini con sommo sforzo si impegnino né transeat a non trascorrere vita, la vita, silenzio, sarebbe nel silenzio ma meglio nell'oscurità, veluti pecora come le bestie. Bestie que, che, natura, soggetto, la natura, finksit, ha creato, quindi creò, prona, prona vuol dire chi ne è a terra, atque, obbedienza, ventri, sarebbe e obbedienti al ventre, quindi in un italiano migliore diremo schiave del ventre. Passiamo dunque alla seconda parte. I verbi sono facilmente riconoscibili, est che va poi con sita, est, quindi est è l'indicativo presente, terza persona singolare, verbo essere, esita è il suo participio aggettivo, ecco, in questo caso non possiamo parlare di un perfetto passivo ma parliamo piuttosto di un predicato nominale. Utimur è l'indicativo presente del verbo utor, prima persona plurale, poi abbiamo est di nuovo. Per quanto riguarda il riconoscimento degli elementi strutturali, ecco, non vediamo propriamente degli elementi che ci parlino di subordinate, però riconosciamo alcuni elementi coordinanti, ad esempio alterum alterum, quindi la naffra alterum alterum che determina sicuramente una correlazione. Infatti, nella destrutturazione del testo riconosciamo tre frasi sostanzialmente, sed nostra omnis vis in animo et corpore sita est, animi imperio, corpore servizio, magis ultimur, e alterum nomis condis e alterum con belluis comune est, è la terza frase. Sono poi sostanzialmente tre principali coordinate tra di loro. Allora, la prima, sed nostra omnis vis, allora sed, vedete che non ho tradotto con ma, ma con orbene, in effetti queste congiunzioni che sarebbero poi congiunzioni avversative come at o come sed, in salustio non hanno propriamente il valore avversativo, quanto piuttosto quello di correlare una frase all'altra, di stabilire delle relazioni fra una frase e l'altra. Sono degli elementi di rimbalzo, di collegamento, quindi il nostro orbene può essere adatto allo scopo. Nostra omnis vis, vuol dire ogni nostra forza e quindi ogni nostra energia, sita est è collocata, dunque risiede in animo et corpore, nell'anima e nel corpo. Ultimur, ricordiamo la funzione del verbo utor che è quella di significare usare, e vuole l'ablativo, infatti qua ci sono due ablativi, c'è imperio che ha come genitivo animi e c'è servizio che ha come genitivo corporis, stabilendo una precisa rispondenza fra i due segmenti. Letteralmente quindi vorrebbe dire ultimur, ci serviamo imperio del comando dell'animo e ci serviamo magis piuttosto servizio della obbedienza corporis del corpo. Questa sarebbe la traduzione letterale, ma naturalmente una traduzione così letterale non rende al massimo il significato che Salus vorrebbe dare, non è bella in italiano, diciamo così, ed ecco che la frase funzione dell'anima è più il comandare del corpo e l'obbedire è certamente più bella, però alla lettera vorrebbe dire ci serviamo della guida dell'anima, del comando dell'anima e ci serviamo di più, quindi piuttosto, dell'obbedienza del corpo. In pratica l'anima deve comandare il corpo deve obbedire. Alterum quindi sarebbe una cosa l'altra, una cosa l'altra, cioè il dominio dell'anima è una cosa e l'obbedienza del corpo è l'altra, quindi alterum vuol dire l'una, nobis comdis comune este è a noi comune con gli dèi, quindi c'è comune agli dèi, l'altra, l'altra cosa è comune con le bestie, quindi l'anima è in comune con gli dèi e invece il corpo è in comune con le bestie. Bene, andiamo ora alla terza parte andiamo a vedere i verbi andiamo a vedere i verbi che sono videtur terza persona singolare di videor querere infinito da quero fruimur indicativo presente prima persona plurale da fruor e efficere che è l'infinito da efficio per quanto riguarda l'analisi e il riconoscimento degli elementi strutturali riconosco un quo all'inizio di periodo un quoniam congiunzione causale al centro e un pronome relativo qua che avrà come suo verbo sicuramente fruimur e abbiamo anche un efficere che è un infinito a cui dobbiamo trovare sicuramente la reggenza si vengono a creare quindi frasi di questo tipo da quomi fino a querere è una frase poi abbiamo un et che ricordiamo è una congiunzione coordinante quindi collega due elementi dello stesso tipo poi quoniam vita ipsa è interrotta poi da questa proposizione relativa a quora fruimur quindi per avere il completamento di quoniam vita ipsa devo andare a brevi sest infine un infinito quindi una proposizione infinitiva memoriam nostri quam maxume longam efficere passiamo ora alla traduzione e vediamo che da quo fino a querere abbiamo la principale poi c'è et che è una congiunzione coordinante che collega due elementi dello stesso tipo quindi io dovrò sicuramente trovare una seconda principale e infatti è qua giù e può essere soltanto questa frase ci siamo arrivati per esclusione perché le due frasi precedenti sono evidentemente delle subordinate la prima è quoniam vita ipsa che è una causale che ha il suo naturale completamento in brevi seste e la seconda equa fruimur che è una proposizione relativa come indicano le frecce si viene a creare una struttura a chiasmo con la prima frase che corrisponde all'ultima frase il quoniam vita ipsa che ha il suo collegamento in brevi seste equa fruimur che costituisce il perno centrale quindi una collocazione molto studiata delle proposizioni passiamo alla traduzione quo qui ha il significato di perciò e quindi mi videtur mi sembra rexius comparativo del neutro più decoroso querere gloriam ricercare la gloria quindi aspirare alla gloria opibus in geni quindi con le risorse con le forze dello spirito quam virium che non con quelle del corpo quoniam poiché vita ipsa dunque propriamente è la vita stessa ma in alcuni casi ipsa corrisponde poi ad ec e questo è uno di quei casi perché qui la vita stessa di cui godiamo è breve non è molto bello in italiano è meglio dire questa vita qua fruimur di cui godiamo è breve bene allora dobbiamo quindi mi sembra più decoroso tendere la gloria con le forze dello spirito che non con quelle del corpo e eccolo qua e ficere rendere qua maxim longam memoriam dunque memoriam nostri è il ricordo di noi quindi rendere il ricordo di noi ed è il complemento oggetto qua maxim longam diciamo il più lungo possibile quindi il più duraturo possibile dove vediamo che longam è predicativo dell'oggetto rispetto a memoriam e qua maxim con una evidente forma arcaica se non starebbe per qua maxim serve a rafforzare il a rafforzare l'aggettivo quindi lunga quanto più possibile il più lunga possibile quindi lunga quanto più possibile bene andiamo alla quarta parte vediamo dunque i verbi i verbi sono est voce verbo essere abetur è l'indicativo presente passivo di abeo poi abbiamo fuit che è l'indicativo perfetto del verbo sum e procederet che è il congiuntivo imperfetto del verbo procedo andiamo a vedere quali sono gli elementi strutturali beh riconosco soltanto un ne e in clitico nella parola vine io devo scomporre vi ablativo di visse e il ne e in clitico che serve per introdurre l'interrogativa indiretta disuntiva infatti subito dopo troviamo un an che adesso evidenzieremo anch'esso andiamo vediamo ora la traduzione dunque nam diviziarum et forme gloria flux atque fragilis est è la prima principale quindi nam infatti la gloria quindi lo splendore diviziarum della ricchezza et forme della bellezza est fluxa e fuggevole atque fragilis e fragile debole caduco naturalmente notiamo che in latino ci sono delle assonanze che poi la traduzione italiana perde come fluxa e fragilis virtus clara eternaque abetur abeor al passivo quindi abeo al passivo dunque abeor vuol dire essere ritenuta quindi la virtù è considerata fulgida ed eterna e sed diu magnum allora sed abbiamo già riscontato prima una congiunzione versettiva di questo tipo dato l'urre con ora orbene dio vuol dire a lungo intermortalis sta per intermortales con il solito archeismo che abbiamo già notato all'inizio del brano fuit certamen vi fu un magnum certamen quindi una grande discussione vine vine è da scorporare in vi e ne e il ne è correlativo di an quindi si viene a costituire una disgiuntiva quindi introduco con se il se interrogativo in diretto italiano res militaris è un nominativo singolare e ha come verbo procederet questo singolare è meglio tradurlo in italiano col plurale quindi se le imprese militari procederet magis quindi traggano di più un maggiore successo quindi procedano di più quindi traggano un maggiore successo vi corporis dalla vigoria del corpo an o virtute animi o dall'acutezza della mente andiamo così alla quinta e ultima parte nam et prius quam incipias consulto et ubi consolures mature facto opus est ita otrunque per sé indigens alterum alterius auxilio eget bene è il momento di guardare i verbi che sono incipias congiuntivo presente seconda persona singolare attivo di incipio consulto è un participio del perfetto inablativo così come passiamo alla destrutturazione del testo si viene a creare un quadro di questo tipo quindi prius quam incipias è una temporale poi consulto è seguito da un et che deve concordare due frasi dello stesso tipo infatti consulto et si concordano con mature facto opus est anche qui c'è un participio del perfetto che dipende poi da opus est quindi queste due frasi vanno sicuramente insieme manca solo l'ultima frase ita utrunque per se indicens alter malter ius ausilio eget andiamo ora alla traduzione nam et prius quam incipias prius quam incipias è la temporale mentre nam et si collega consulto et mature facto opus est e costituisce la principale quindi la principale è dispiegata su più fasce quindi infatti sia prius quam incipias prima di intraprendere un'impresa opus est è il verbo della principale è necessario ed è costruito con l'ablativo del participio del verbo che regge quindi in questo caso consulto il primo dei due è consulto quindi è necessario riflettere sia ubi consulueris quindi quando tu abbia deliberato quindi dopo aver deliberato sempre è necessario fatto quindi agire fare mature prontamente ita utrunque per sé indigence quindi sicché utrunque vuol dire ciascuna delle due facoltà indigence per sé di per sé imperfetta se uso ciascuna parlerò al singolare se dico queste due facoltà parlerò al plurale quindi sicché queste due facoltà oppure ciascuna di queste due facoltà di per sé imperfetta oppure imperfette eccet ha bisogno se dico ciascuna dico ha bisogno se dico queste due facoltà userò il verbo plurale hanno bisogno l'una dell'aiuto dell'altra di per sé di per sé di per sé